Sono stati 4-5, uno anche domenica sera qui ora. Come si vive? Insomma con un po' di paura. Perché? Perché, perché c'è insomma questo problema e non si vive bene, non puoi vivere bene. Torna l'allarme furti a Campolucci, frazione alle porte di Arezzo, ancora un assalto in un'abitazione. L'ultimo colpo è stato messo a segno la scorsa domenica. I banditi sono entrati in azione nel primo pomeriggio. Prima si sono intruffolati nel garage dove hanno trovato una scala con la quale si sono introdotti in casa. Una volta saliti sul balcone hanno forzato una finestra e sono così entrati a fare la mala scoperta i proprietari di casa. I malviventi molto probabilmente erano alla ricerca di una cassaforte nascosta. Hanno rovestato cassetti, spostato quadri e mobili. Con sé avrebbero avuto anche un flessibile. Ma per loro sfortuna hanno trovato ben poco. Si sono andati alla fuga infatti con un magro bottino, circa 200 euro trovati dentro un borsello. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia per i rilievi del caso. Un nuovo assalto che riaccende i riflettori sul tema sicurezza. Da mesi infatti la frazione è finita nelle mire dei ladri. È diverso tempo che veniamo presi di mira. Zona che magari è tranquilla, poco popolata e quindi più facile magari da aggredire per i ladri. E il brutto è quando entrano nelle case che non sei mai quello che ti aspetta. Quindi si sta più attenti quando bisogna uscire di casa, quando stiamo intorno a casa. Si ha qualche accortenza in più. Si spera sempre che non succeda. Si sente comunque presi di mira? Un po' sì, sì, quello sicuramente.